Sofia Vergara senza veli ha 45 anni per Women's Health, la cover 45 anni e non sentirli. È una Sofia Vergara da urlo quella che si spogliata per l'ultimo numero di Women's Health. Senza veli in copertina, la star di Modern Family ha fatto impazzire i social, per la gioia di quel Joe Manganiello da poco diventato suo invidiato marito. La Vergara ha recentemente creato Ebi, servizio in abbonamento di biancheria intima il cui 10 delle vendite sarà devoluto alla T7 Bar Foundation, associazione che fornisce prestiti alle donne di tutto il mondo per aiutarle ad avviare la propria attività. La prima collezione prenderà vita a fine estate.